In otto è il corpo che cade ma c'è anche una decisione della caduta appena prima e subito prima ed è una riterazione di questo unico gesto che viene fatto dall'inizio e che descrive sempre poi tutto lo spettacolo e che diventa poi attraverso proprio la propria evoluzione è quello che accompagna anche lo spettatore qual è il momento che qualcuno o il corpo cade? Lo spettacolo si ripropone esattamente tale e quale e in questo tale e quale credo che raccolga comunque ancora tutta una serie di visioni che erano state in qualche modo intuite su un atteggiamento occidentale che poi in qualche modo ha proseguito nella sua strada fino ad arrivare ad oggi in cui credo che sia forse più percepibile di prima questa idea di caduta aspettando di rialzarsi in qualche modo senza dare accezioni positive o negative a questa cosa Gli oggetti in otto hanno vari ruoli intanto sono una sorta un'estensione del corpo che in qualche modo si propone sulla scena e che oltre a lui riescono a sviluppare una loro vita indipendente da quello che poi si sta succedendo intorno Gli oggetti creano anche una drammaturgia nello spettacolo perché una volta caduti diventano dei residui che tracciano proprio delle coordinate e quindi lo spettacolo è anche fatto dalla drammaturgia che loro stessi mettono in atto proprio in relazione uno all'altro e la scelta è una scelta molto legata al mondo quindi alla quotidianità, alla contemporaneità oggetti che tutti possono riconoscere e dove tutti possono agganciarsi per ricostruire delle possibili storie